capitolo 10 ed ora io nefi procedo a dare un racconto su queste tavole delle mie azioni del mio regno e del mio ministero pertanto per procedere con il mio racconto devo parlare un po delle cose di mio padre e anche dei miei fratelli poiché ecco avvenne dopo che mio padre ebbe cessato di dire le parole del suo sogno e anche di sortarli ad essere dirigenti in ogni cosa che egli parlò loro riguardo ai giudei che dopo che fossero stati distrutti anche la grande città di gerusalemme e molti tratti schiavi in babilonia secondo il tempo stabilito dal signore essi sarebbero tornati di nuovo sì sarebbero proprio stati riportati indietro fuori dalla schiavitù e dopo essere stati riportati indietro fuori dalla schiavitù avrebbero di nuovo posseduto la terra della loro eredità sì proprio a 600 anni dal tempo in cui mio padre lasciò gerusalemme il signore dio avrebbe suscitato un profeta fra i giudei sì un messia o in altre parole il salvatore del mondo e parlò pure riguardo ai profeti in quale grande numero avessero attestato queste cose riguardo a questo messia del quale avevano parlato ossia a questo redentore del mondo pertanto tutto il genere romano era in uno stato perduto e decaduto e lo sarebbe stato per sempre a meno che non avesse confidato in questo redentore e parlò anche riguardo a un profeta che sarebbe venuto prima del messia per preparare la via del signore sì egli si sarebbe fatto innanzi e avrebbe gridato nell'eserto preparate la via del signore raddrizzate i suoi sentieri poiché uno fra voi che voi non conoscete ed egli è più potente di me e io non son degno di sciogliere il legaccio dei suoi calzari e mio padre parlò molto riguardo a queste cose e mio padre disse che egli avrebbe battezzato avrebbe battezzato a batte bara al di là del giordano e disse anche che egli avrebbe battezzato con l'acqua e che l'avrebbe battezzato perfino il messia con l'acqua e dopo che aver dopo aver battezzato il messia con l'acqua egli avrebbe veduto e portato testimonianza di aver battezzato l'agnello di dio che avrebbe tolto i peccati del mondo e avvenne che dopo che mio padre ebbe detto queste parole parlò ai miei fratelli riguardo al vangelo che sarebbe stato predicato fra i giudei e anche riguardo al degenerare dei giudei nell'incredulità e dopo che essi avessero ucciso il messia che doveva venire egli dopo avere dopo essere stato ucciso sarebbe risorto dai morti e si sarebbe manifestato mediante lo spirito santo ai gentili sì e mio padre parlò molto riguardo ai gentili e anche riguardo al casato di israele che esso sarebbe stato paragonato ad un olivo i cui rami sarebbero stati spezzati e dispersi su tutta la faccia della terra pertanto e gli disse era necessario che noi fossimo condotti di comune accordo alla terra di promessa per adempere la parola del signore che saremmo stati dispersi su tutta la faccia della terra e dopo che il casato di israele sarebbe stato disperso essi sarebbero stati di nuovo radunati ovvero alla fine dopo che i gentili avessero ricevuto la pienezza del vangelo i rami naturali dell'olivo o i superstiti del casato israele sarebbero stati inestati cioè sarebbero venuti a conoscenza del vero messia lo loro signore e lo redentore e con espressioni di questo tipo mio padre profetizzò e parlò ai miei fratelli e anche di molte altre cose che non scrivo in questo libro poiché ne ho scritte tante quanto mi è opportuno nel mio altro libro e tutte queste cose di cui ho parlato furono fatte mentre mio padre dimorava in una tenda nella valle di lamuele e avvenne che dopo che io nefi avendo udito tutte le parole di mio padre riguardo alle cose che aveva visto in visione e anche le cose che aveva detto mediante il potere dello spirito santo potere che gli aveva ricevuto mediante la fede nel figlio di dio e il figlio di dio era il messia che sarebbe venuto anch'io nefi ero desideroso di poter vedere udire e conoscere queste cose mediante il potere dello spirito santo che è il dono di dio a tutti coloro che lo cercano dirigentemente tanto nei tempi antichi quanto al tempo in cui egli si manifesterà ai figli dei uomini poiché egli è lo stesso ieri oggi e per sempre è la via preparata per tutti i uomini sin dalla fondazione del mondo che accadrà che ci pentano che ci che si pentano e vengano a lui poiché colui che cerca dirigentemente troverà i ministeri di dio gli verranno spiegati mediante il potere dello spirito santo tanto in questi tempi come nei tempi antichi tanto nei tempi antichi come nei tempi avvenire pertanto il corso del signore è unico cerchio eterno ricorda dunque o uomo che per tutti i tuoi atti sarai portato in giudizio pertanto se avete cercato di agire malvagiamente durante i giorni della vostra prova sarete allora trovati impuri dinanzi al seggio del giudizio di dio e nessuna cosa impura può dimorare con dio pertanto dovrete essere gettati per sempre e lo spirito santo mi dà l'autorità di dire queste cose e non tacerle capitolo qui 11 poiché avvenne che dopo che ebbi desiderato di conoscere le cose che mio padre aveva visto credendo che il signore fosse in grado di farmela e conoscere mentre sedevo meditando nel mio cuore fui rapito nello spirito del signore sì su un'altissima montagna che non avevo mai vista prima e sulla quale prima non avevo mai messo piede e lo spirito mi disse ecco cosa desideri e io dissi desidero vedere le cose che mio padre vide e lo spirito mi disse crei tu che tuo padre vide l'albero di cui hai parlato e io dissi sì tu sai che io credo a tutte le parole di mio padre e quando ebbi detto queste parole lo spirito gridò ad alta voce dicendo osanna al signore l'altissimo dio poiché egli è dio su tutta la terra sì proprio su tutta e benedetto sei tu nepi perché credi nel figlio dell'altissimo dio pertanto tu vedrai le cose che hai desiderato ed ecco questo ti sarà dato come segno che dopo aver veduto l'albero che portava il frutto che tuo padre assaggiò tu vedrai pure un uomo scendere dal cielo e testimonierai di lui e dopo che avrai testimonato di lui porterai testimonianza che egli è il figlio di dio gli avvenne che lo spirito mi disse guarda e guardai e vidi un albero ed era come l'albero che aveva visto mio padre e la sua bellezza era di gran lunga superiore si superava ogni altra bellezza e il suo candore sorpassava il candore della neve sospinta dal vento e avvenne che dopo che ebbe visto l'albero dissi allo spirito vedo che mi hai mostrato l'albero che è prezioso più di ogni altra cosa ed egli disse cosa desideri e io gli dissi conoscerne l'interpreazione poiché gli parlavo come parla un uomo poiché vedevo che egli aveva la forma di un uomo tuttavia sapevo che era lo spirito del signore ed egli mi parlava come un uomo parla a un altro uomo e avvenne che indisse guarda e io guardai come per osservarlo ma non lo vidi poi che se n'era andato dalla mia presenza e avvenne che guardai e vidi la grande città di gerusalemme e anche altre città e vidi la città di nazareth e nella città di nazareth vidi una vergine ed ella era straordinariamente leggiadra e pura e avvenne che vidi i cieli aprirsi un angelo scese stretto dinanzi a me e mi disse nefi cosa vedi e gli dissi una vergine più bella e più leggiadra di ogni altra vergine ed egli disse conosci tu la condiscendenza di dio io gli dissi so che egli ama i suoi pioli non di meno non conosco il significato di tutte le cose ed egli disse ecco la vergine che vedi è la madre del fio di dio secondo la carne e avvenne che io vidi che ella era rapita nello spirito e dopo che era stata rapita nello spirito per lo spazio di un tempo l'angelo mi parlò dicendo guarda e io guardai e vi di nuovo la vergine che portava un bambino fra le sue braccia e l'angelo mi disse ecco l'agnello di dio sì proprio il figliolo del padre eterno conosci tu il significato dell'albero che vide tuo padre e io gli dissi dicendo sì è l'amore di dio che si effonde nel cuore dei figlioli dei uomini pertanto la più desabile di tutte le cose ed egli mi parlò dicendo sì è la più gioiosa per l'anima e dopo che ebbe dette queste parole mi disse guarda e io guardai e vidi il figlio di dio avanzare fra i figlioli dei uomini e ne vidi molti cadere ai suoi piedi e adorarlo e avvenne che io vidi che la verga di ferro che mio padre aveva visto era la parola di dio che conduceva la sorgente di acque vive ossia l'albero della vita le quali acque sono una rappresentazione dell'amore di dio e vedi pure che l'albero della vita è una rappresentazione dell'amore di dio e l'angelo mi disse di nuovo guarda e vedi la condiscendenza di dio e guardai e vidi il redentore del mondo del quale aveva parlato mio padre e vidi pure il profeta che avrebbe preparato il cammino dinanzi a lui e l'angelo di dio si fece avanti e fu battezzato da lui e dopo che fu battezzato vidi i cieli aperti e lo spirito santo scendere dal cielo e soffermarsi su di lui in forma di colomba e vidi che andava esercitando il suo ministero presso il popolo in potenza e grande gloria le moltitudini si radunavano per udirla e vidi che lo scacciavano di fra mezzo a loro e vidi pure dodici altri che lo seguivano e avvenne che essi furono srapiti nello spirito dalla mia presenza e non li vidi più e avvenne che l'angelo mi parlò di nuovo dicendo guarda e guardai e vidi i cieli di nuovo aperti e vidi degli angeli discendere sui figlioli dei uomini ed essi esercitavano il loro ministero presso di loro ed egli mi parlò di nuovo dicendo guarda e guardai e vidi l'agnello di dio che andava era fra i figli dei uomini e vidi moltitudini di persone che erano ammalate che erano afflitte da ogni sorta di malattie da demoni e da spiriti impuri e l'angelo parlò e mi mostrò tutte queste cose ed esse furono guarite mediante il potere dell'agnello di dio e i demoni e gli spiriti impuri venivano scacciati e avvenne che l'angelo mi parlò di nuovo dicendo guarda e io guardai e vidi l'agnello di dio che era preso dal popolo sì il figlio dell'eterno e dio era giudicato dal mondo e vidi che ne porto testimonianza io nefi vidi che egli venne innalzato sulla croce e ucciso per i peccati del mondo e dopo che egli fu ucciso vidi le moltitudini della terra che si radunavano per combattere contro gli apostoli dell'agnello poiché così erano chiamati i dodici dell'agnello del signore e la moltitudine della terra era radunata e vidi che essi erano in un edificio ampio e spazioso come l'edificio che vide mio padre e l'angelo il signore mi parlò di nuovo dicendo ecco il mondo e la sua saggezza sì ecco il casato di traele si è radunato per combattere contro i dodici apostoli dell'agnello e avvenne che io vidi e porto testimonianza che l'edificio grande e spazioso era l'orgoglio del mondo e cadde e la sua caduta fu grandissima e l'angelo del signore mi parlò di nuovo dicendo così sarà la distruzione di tutte le nazioni stirpi lingue e popoli che combatteranno contro i dodici apostoli dell'agnello capitolo 22 e avvenne che l'angelo mi disse guarda e vedi la tua posterità e anche la posterità dei tuoi fratelli e guardai e vidi la terra di promessa e vidi moltitudini di persone sì come fossero in numero grande quanto la sabbia del mare e avvenne che vidi moltitudini radunate per combattere una contro l'altra e vidi guerre rumori di guerre e grandi stragi di spada fra il mio popolo e avvenne che vidi morire molte generazioni per via delle guerre delle contese nel paese e vidi molte città sì al punto che non le contai e avvenne che vidi una bruma tenebrosa sulla faccia della terra di promessa e vidi lampi e udì buoni e terremoti e ogni sorta di rumori tumultuosi e vidi la terra le rocce che si pendevano e vidi montagne crollare a pezzi e vidi le pianure della terra che si pendevano e vidi mol molte città che sprofondavano e ne vidi mol molte che venivano arse dal fuoco e ne vidi molte che crollavano a terra a causa del terremoto e avvenne dopo che ebbi visto queste cose che vidi il vapore tenebroso che si diladava dalla faccia della terra ed ecco vidi delle moltitudini che non erano cadute a causa dei grandi e terribili giudizi del signore e vidi cieli aperti e l'agnello di dio di scendere dal cielo ed egli scese e si mostro a loro e vidi pure ne porto testimonianza che lo spirito santo cese su dodici altri ed essi furono ordinati da dio e scelti e l'angelo mi parlò dicendo ecco i dodici discepoli dell'agnello che sono scelti per esercitare il ministero presso la tua posterità e mi disse ricordi i dodici apostoli dell'agnello ecco sono quelli che giudicheranno le dodici tribù di israele pertanto i dodici ministri della tua posterità saranno giudicati da loro poiché voi siete del casato di israele e questi dodici ministri che tu vedi giudicheranno la tua posterità ed ecco essi sono giusti per sempre poiché a motivo della loro fede nell'agnello di dio le loro vesti sono rese candide nel suo sangue e l'angelo mi disse guarda e guardai e vidi le tre generazioni morire in rettitudine e le loro vesti erano candide proprio come l'agnello di dio e l'angelo mi disse questi sono resi candidi nel sangue dell'agnello a motivo delle loro fede in lui e io nefi vidi pure molti della quarta generazione morire in rettitudine e avvenne che vidi le moltitudini della terra radunate e l'angelo mi disse guarda la tua posterità e anche la posterità dei tuoi fratelli e avvenne che guardai e vidi il popolo della mia posterità radunato in moltitudini contro la posterità dei miei fratelli ed erano ordinati per combattere e l'angelo mi parlò dicendo guarda la sorgente d'acqua impura che vide tuo padre sì proprio il fiume di cui egli parlò e le sue profondità sono le profondità dell'inferno e le brume tenebrose sono le tentazioni del diavolo che acceca gli occhi e indurisce il cuore dei figlioli e dei uomini e li conduce per strade spaziose affinché periscano e siano perduti e l'edificio ampio e spazioso che vide tuo padre sono le vane immaginazioni e l'orgoglio dei figlioli e degli uomini e un grande e terribile abisto li divide sì proprio la parola della giustizia dell'eterno dio e della messia che è l'agnello di dio del quale lo spirito santo porta la testimonianza dal principio del mondo fino ad ora e d'ora innanzi e per sempre e mentre l'angelo diceva queste parole io guardai e vidi che la posterità dei miei fratelli lottava contro la mia posterità secondo la parola dell'angelo e a causa dell'orgoglio della mia posterità e delle tentazioni del diavolo vidi che la posterità dei miei fratelli soprafaceva quelli della mia posterità e avvenne che guardai e vidi il popolo della posterità dei miei fratelli che aveva sopraffatto la mia posterità e avanzavano in moltitudini sulla faccia del paese e li vidi radunati in moltitudini e vidi guerre e rumori di guerre tra loro e in guerre e rumori di guerre vidi morire molte generazioni e l'angelo mi disse ecco questi degenereranno nell'intriguità e avvenne che io vidi che dopo che erano degenerati nell'intriguità divennero un popolo scuro ripugnante e immondo pieno di pigrizia e di ogni sorta di abominazioni grazie a tutti grazie a tutti